musica 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 ma questo come è possibile che sappia tutta la mappa di legge e provincia a memoria 91 91 non ci credo la merda vai 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 musica musica aspetta un attimo allora facciamo un gioco ci siete? chi vuole essere milionario con it's lore facciamo la la domanda no? secondo voi it's lore su la jorona che fail ha fatto? le opzioni sono 91 87 94 88 ho fatto una morte insomma molto 91 no un'altra volta ho fatto un'altra avrò ancora più pain 88 per esattamente dai era l'unica che non aveva detto esattamente la sedicesima volta perchè io me le segno diocca nooo ho sbagliato tutto qui diocca nooo lore stream ma ti porto un po' di porto tutto tutto sbagliato a prescindere da no 93 ma come 93 lore stream ma stream ma stream ma stream ma perchè potrebbe succedere una cosa interessante molto interessante molto speciale molto speciale molto speciale faccio vedere la mia postazione da gaming la poatazione da gaming la postifatazione mi sa che shard lo scrive mi sa che shard sta sta perdendo ancora cercando di metabolizzare quella cosa sta prendendo pugni la tastiera mi sa no no che pugni sta felice sto morendo eh si morirai ancora di più quando si sarà quello di cioè quando Minecraft un trabacca quando viene la date non morirai qui morirei dentro ma ora vado a morire alle chiavi alla parte delle chiavi l'ultra bop di good people die e basta morire al 13 Sì, sì, sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo sette mesi faccio un Xtreme. Taglielo. Taglielo come taglielo. Taglielo, donna, finalmente. Taglielo, donna. Se i moderatori ascoltano questo messaggio, rattiate domodossolo o arriva burger? Guardiamo conto i tentativi di due copie, i livelli prima del reset e i tentativi attuali. Ti stai salvato? Sì, sì, lo salvati tutti. Madonna. 919 più mille, quant'erano qua? 1196. E prima del reset? 1098, cazzo. Quindi devo contare quattro dei tentativi diversi di due copie, quell'attuale. Ah, mi pareva il totale. E prima del reset. Il totale dei tentativi con tutte queste madonne. Pensi che sono pochi mille sulla Yorona. 4125, sono pure pochi, sinceramente. Sono pochi. Molto pochi in realtà, l'abbè, si è incazzato più che altro perché eri talmente molto consistente che non riuscivi a finirlo in breve tempo. Più quando dite queste cose mi fa venire in mente con lo strato dove tutto sono io. Con lo scritto. Sì, 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 sì.